Benvenuti a tutti ragazzi, sono Ricchi897 e oggi siamo qua su APB Reloaded con un gameplay and funny moments e l'ho fatto insieme a Lori e a DJ Piro, in descrizione ho lasciato i link ai loro canali, visitateli e vi auguro buona visione e ovviamente lasciate un bel like se volete e condividete Bella a tutti ragazzi guarda guarda dai 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 che sono arrivati, dai 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 eh non mi fai... ok abbiamo un gold conto oh mio dio mi rientro quello ne mi... oh shit, oh fuck 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 Piro ma sei uno strozzo, figami sparato io? Piro è dietro, è dietro, è dietro grande è quello che gli ha fatto assicurare no basta Ale non c'è più nessuno... ah no ok come no? si eccola ecco attenzione lo ste... spara 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 gli alla macchina a chi? alla macchina... a chi? alla macchina... vai 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 quale macchina? alla macchina! spara gli alla macchina! occhio occhio adesso ci sta sparando guarda non so mi hanno investito la tua macchina mi ha investito perché perché mi ha dato la team kill? raga we can do it sono stato ma dove devo andare questo è di qua ma chi è ma è giusto davvero o no ah si intanto c'è Baggio che mi scrive al telefono ok si ho fatto assist qual è l'obiettivo sono quelli occhio occhio ce n'è uno sul tetto ragazzi tenetelo e tenetelo va di va di paoni ma dai dati sul muro adesso mi uccidi dove devo andare ok scappi vabbè c'è il gold che ci sta facendo fuori tu come no come si scavalca scavalca a f si lo sto facendo si lo sto facendo oh mio dio l'hai ucciso? raga state attenti no 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 dai dai perchè mi hai ucciso io stavo saltando tranquillamente dov'è la gente cattiva qua ok ma so ma so e scendi ora poi ce n'è un altro vai vai che ce la fai la zecchino pesca una vocale dai dobbiamo andare oh lori vabbè sto venendo incontro credo no non mi venite più scritti fuori dove siete? Ale devi andare così arancione ok sono andata sono arancioni raccatta una macchina da per terra e via da per terra soprattutto no vabbè ci riusciamo ad arrivare occhio dietro occhio dietro fai l'obiettivo no fai l'obiettivo copro io sto andando all'e sto andando all'e ho cambiato no lo faccio io allora si lo faccio io che tanto c'ho quello si occhio alla granata cazzo alla città granata oh non farlo venire qua dove devo andare? mi trovo nella fase 4 ancora granata sta arrivando sta arrivando fammi entrare fammi entrare occhio a che sta per esplodere la macchina via vai allora occhio c'è il tipo là e vabbè ho parlato poi c'è di chi ci guida molto bene aspettate andiamo a rilasciare corra corra perché mi dice rilascia che cosa devo rilasciare niente vieni ok vai guarda di là io guardo di qua lei lei muoia anche lei io continuo guardando sta arrivando uno da dietro io vedevo da dietro si è là ok è morto grande oh hai seccato l'hai seccato con il mio assist ah si è feo ah si più vedelo ecco la vabbè dove uscire ditelo no io ero ancora dentro l'auto ok 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 dentro la macchina dentro la macchina subito senza farvi uccidere quale macchina la mia la mia la mia non tutti in contemporanea fatemi guidare fatemi guidare lasciatemi guidare scusa 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 entrate entrate vai vai ci sono corri corri occhio grazie gli abbiamo regalato due punti grazie cortesemente quando stai per uscire dall'auto puoi dire ma avete visto le granate dai eh no io sono uscito dall'auto però era era già praticamente esplotto dobbiamo andare ma aspetta Piero non facciamo cose azzardate raggiungiamo dove sei state attenti che da sinistra ne sta arrivando un altro ok c'è un altro qui sotto si vuol dire ce n'è uno era lì sotto occhio c'è una granata Ale non andarci ah e dillo e l'ho detto no non l'hai detto occhio c'è una granata tale non andarci dove recuperare la giornata via 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 falar poter paper state nascosti che si hanno un vantaggio non andata di addosso va bene occhio non morire non bello neccato dalla distanza loro rango Prendo anche il cecchino Io vado di pistolet Che se lo piro con le pistole Non l'ho capito E perchè tu non sai la storia di piro con le pistole Qualcuno ha capito cosa dobbiamo fare Deve ucciderli on deathmatch E vince chi fa Ma dove sono? Scusi lei Stia zitto sto parlando Anche lei zitto Ok perfetto mancano 3 kill Mancano 3 kill raga Ce la stiamo facendo No no raga sono morto 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 Ma non è vero Oh adoro Lory quant'è Buona 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 abbiamo vinto Comunque ragazzi Sarà il video di APB con DJ Piro e Lori Salutate Bella raga Aspetta sto chiudendo una Stai esplodendo qualcosa Me lo sento Un col mio mino ancora dentro Che come si era tranquilla Vabbè banana a tutti Da Ricky897 è tutto Ci becchiamo al prossimo video Bella a tutti ragazzi Ci becchiamo come gli uccelli Ci becchiamo Come gli uccelli Ci becchiamo E con questa roba squalidissima Ci vediamo al prossimo video Bella a tutti